La seconda parte del campionato 2014-2015. A memoria i risultati delle partite dalla giornata numero 9 alla giornata numero 15. Questa è seriamente la Serie A a memoria dal campionato 87-88 al campionato 2016-2017. Ben ritrovate cari amiche, ben ritrovati cari amici. Oggi seriamente dalla macchina causa maltempo. E siamo pronti quindi ad andare a ricordare la giornata numero 9, che fu Tuno infrastimanale. Che si apre con Atalanta-Napoli 1-1, con un rigore sbagliato da Napoli con Iguain. Cagliari-Milan 1-1, Fiorentina-Udinese 3-0, Palermo-Chievo 1-0, Genoa-Juventus 1-0, Inter-Sandoria 1-0, Roma-Cesena 2-0, Sassuolo-Empoli 3-1, con un rigore sbagliato da Berardi, Torino-Parma 1-0 e Verona-Lazio 1-1. La decima giornata si apre con Cesena-Verona 1-1, Empoli-Juventus 0-2, Parma-Inter 2-0, Napoli-Roma 2-0, Milan-Palermo 0-2, Lazio-Cagliari 4-2, con l'espulsione del Cagliari-Toni-Barbo. Sandoria-Fiorentina 3-1, Torino-Atalanta 0-0, Udinese-Genoa 2-4 e Chievo-Verona-Sassuolo 0-0. Andiamo adesso a ricordare l'undicesima giornata con Cagliari-Genoa 1-1, un rigore sbagliato dal Cagliari con Avelar. Fiorentina-Napoli 0-1, Chievo-Verona-Cesena 2-1, Empoli-Lazio 2-1, Inter-Verona 2-2, Juventus-Parma 7-0, Roma-Torino 3-0, Palermo-Udinese 1-1, con un rigore sbagliato dal Palermo con Vasquez. Sandoria-Milan 2-2, Sassuolo-Atalanta 0-0. E adesso andiamo a ricordare la giornata numero 12, che sia per con il derby, Milan-Inter 1-1, abbiamo poi Atalanta-Roma 1-2, Lazio-Juventus 0-3, Torino-Sassuolo 0-1, Udinese-Chievo 1-1, Verona-Fiorentina 1-2, Cesena-Sampdoria 1-1, Genua-Palermo 1-1, abbiamo poi Napoli-Cagliari 3-3, Parma-Empoli 0-2. In Torino solo 0-1, ricordo un rigore sbagliato dal Torino. Andiamo adesso a ricordare la giornata numero 13, che si apre con il pareggio a reti bianche tra Empoli-Atalanta 0-0, poi Cagliari-Fiorentina 0-4, Cesena-Genoa 0-3, Chievo-Verona-Lazio 0-0, Sampdoria-Nappoli 1-1, Milan-Udinese 2-0, Roma-Inter 4-2, Juventus-Torino 2-1, Sassuolo-Verona 2-1, Palermo-Parma 2-1. La successiva giornata, la giornata numero 14, si apre con l'Atalanta-Cesena 3-2, Fiorentina-Juventus 0-0, Cagliari-Chievo-Verona 0-2, Genua-Milan 1-0, Inter-Udinese 1-2, Parma-Lazio 1-2, Torino-Palermo 2-2, Roma-Sassuolo 2-2, Verona-Sampdoria 1-3 e Napoli-Empoli 2-2. La quindicesima giornata si apre con Parma-Cagliari 0-0, Chievo-Verona-Inter 0-1, Genua-Roma 0-1, Juventus-Sampdoria 1-1, Lazio-Atalanta 3-0, Milan-Napoli 2-0, Cesena-Fiorentina 1-4, Palermo-Sassuolo 2-1 con l'espulsione del portiere del Sassuolo Consigli, vediamo poi Udinese-Verona 1-2, Empoli-Torino 0-0. Questa era la seconda parte del campionato 2014-2015, i risultati dalla giornata numero 9 alla 15. Io vi ringrazio, cari amiche e cari amici, vi rinnovo l'invito a seguirmi sul mio canale YouTube e sui miei profili social. A presto, ciao!